Io e Federino abbiamo un conto aperto con Nalbandian, perché Rios, dicono tutti i più forti giocatori al mondo, non ha vinto Slam, Rios è stato numero uno, però Rios mancava di qualità fisica per vincere di Slam e si torna lì. Rios non teneva le due settimane a 5-7, Nalbandian se voleva teneva le due settimane con quattro pinte di birra, con lo svago in ogni città dove c'erano lo Slam. Nalbandian secondo me è il giocatore più forte nel Nalbandian e ci metto Le Conte che forse il primo Wimbledon di Becker lo poteva vincere. Le mie ferite aperte negli Slam si chiamano Le Conte in Nalbandian.